Ben trovati, buongiorno, mercoledì 5 febbraio 2020, nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa, apertura dedicata alle prime pagine dei quotidiani abruzzesi, iniziamo con il centro, con l'edizione di Pescara per andare a vedere quali sono i titoli principali del giornale Oggi in Edicola, vedete tassa, rifiuti, aumenti a fine anno, Pescara le prime rate si pagano come nel 2019, ma poi il rischio rincari, andiamo in alto, virus peggiora la coppia cinese, Roma i due turisti trasferiti in rianimazione e controlli stringenti negli aeroporti e il premier Conte stoppa i governatori, fidatevi degli esperti e tornando invece, passando alle questioni di casa nostra, torna a casa il bambino che era ricoverato all'ospedale dell'Aquila. Andiamo a centro pagina, lo sport, il calcio di serie B, altro che precario, Nicolale Grottaglie fa sognare il Pescara, due vittorie di fila per il trainer abruzzese, vediamo le cronache, Montesilvano due condanne per i massaggi a luci rosse e poi il maltempo delle ultime ore soprattutto per il vento, l'albero crolla sopra un'auto, tragedia sfiorata a scafa. Torniamo a Pescara, i ladri rubano i soldi della beneficenza, Pescara blizza il mercato coperto di via dei Bastioni, era in atto una raccolta di fondi. Andiamo a vedere la prima pagina di Chieti, Lanciano Vasto, sempre del quotidiano Il Centro, droga in città, 23 sotto accusa, la procura di Chieti chiede il processo per titolari di locali, camerieri ed ultra. Vediamo poi invece a centro pagina, paura a palombaro, incendio, minaccia a casa di riposo, anziani salvati, vedete. E poi le altre notizie della prima pagina del centro edizione di Chieti, Vasto e San Salvo litigano su Craxi l'intitolazione di una strada e un convegno al centro della polemica. Lasciamo anche questa pagina del quotidiano Il Centro, andiamo a vedere la prossima che è quella di Teramo e siamo proprio nel capoluogo Teramano, nuova giunta, priorità al traffico, il neossessore Verna farà il piano della mobilità sostenibile anche nel Teramano, ieri disagi per il vento che abbatte alberi e danneggia edifici in tutta la provincia. Vediamo ancora Colonnella preso a Brindisi il bandito della sparatoria e poi Giulianova un accordo per rilanciare il nautico. Proseguiamo con la prima pagina del centro edizione di Chieti, scusate di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, confessa tangente e finisce nei guai, l'Aquila da testimone ed accusato nel processo con ex assessori imputati. Vediamo poi più in basso, pensionato di Avezzano vince una casa e 200 mila euro, centrato un 5 alla lotteria istantanea. Proteste ad Avezzano raccolta firme contro i teppisti della Movida e poi Sulmona, comune, 48 ore per risolvere la crisi di giunta e poi giovane ferito dal treno in corsa, incidente ferroviario tra Bazzano e Sant'Elia, il 21enne camminava vicino ai binari. Vediamo la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero busse per Roma, allarme tagli, l'Aquila ridotte le corse di andate e ritorno, la società tua, criteri commerciali, si apre il fronte politico intanto all'interno di Fratelli d'Italia, Mannetti attacca il governatore Marsilio e poi la storia che arriva a Danereto, in provincia di Teramo, Caneveglia per tre giorni, il padrone morto in casa. Vediamo ancora, andiamo a centro pagina, agenzia delle entrate impiegato in Manette per corruzione, accesso abusivo alle banche dati, ogni visura in cambio di soldi e poi Teramo fece fuoco contro i carabinieri, catturato in Puglia, il calcio con Zappa, speranza del Pescara, due reti consecutive per il centrocampista abruzzese. Andiamo in alto, la fortuna, pacea la Marsi che d'Avezzano gioca due euro alla lotteria e vince un alloggio da mezzo milione e poi il lavoro che non c'è, negozio non trova personale da assumere, orario ridotto. E poi la paura, il coronavirus dimesso, il bimbo ricoverato in isolamento. Vediamo l'ultima notizia, l'ultimo titolo, per meglio dire in basso, Montesilvano Massaggiard, due condanne. Lasciamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero, siamo al quotidiano La Città, sparatoria, latitante arrestato in Puglia, preso a Brindisi il giovane che ha seminato il panico sulle strade di Colonnella, caccia ai complici in alto, politica a Teramo, D'Alberto perde i primi pezzi dopo il rimpasto, Silvi pubblicato il bando per finire la pista ciclabile, maltempo, decine di interventi ieri nel Teramano per il vento. Andiamo più in basso, Giulianti a capo della Lega Teramana, Luigi Deramo lo ha nominato commissario provinciale. E poi Rosetto degli Abruzzi, Marcone torna ad attaccare sul degrado lungo le strade. Lasciamo dunque le prime pagine del quotidiano abruzzesi, tra poco torneremo a sfogliare insieme le pagine interne del centro del messaggero del quotidiano La Città, ma andiamo all'edicola nazionale, iniziamo con il Corriere della Sera, Cina, la fuga degli stranieri, questo è il titolo, vedete in alto di apertura, Parigi e Londra, i connazionali tornate in Italia, controlli sui voli dall'estero, intanto si aggrava la coppia di pazienti ricoverata a Roma, test negativo per il ragazzo bloccato a One. E poi andiamo più a centro pagina, è iniziato il Festival di Sanremo, monologo della giornalista al Festival Rula, le donne e i femminicidi, e poi l'ironia di Fiorello Don Matteo. Vediamo anche una notizia che arriva dalla Lombardia, si uccide il vigile insultato sui social, anche dopo le scuse aveva usato un posto riservato ai disabili. Vediamo Repubblica, fuga dalla Cina, gli italiani per ora no controlli con termoscanner su tutti i voli esteri, spallanzani si aggravano i due turisti ricoverati. Ultimatum prescrizione, vedete più a centro pagina, intervista a Matteo Renzi, sfiducia a Buonafede, molleranno prima perché non hanno la maggioranza. Vediamo anche il Fatto Quotidiano, la vera barbarie, si prescrivono i veleni dell'Ilva, ucciso l'ennesimo processo, eccellente, questo è il titolo a tutta pagina del Fatto. Vediamo anche Libero, lo Stato taglia i fondi e umilia la nostra scienza, grave denuncia del Rettore di Milano. E poi, isola il virus a 67 anni e lavora sodo, altro che quota 100 per la Capo. ricercatrice, vedete nella foto. E poi scuola aperta, gli studenti tornati dalla Cina, gli italiani invece finiscono in quarantena. Vediamo anche il manifesto, la grande muraglia, peggiorano le condizioni dei due stranieri ricoverati a Roma, ma l'emergenza coronavirus resta quella delle notizie false, del razzismo, la Cina furiosa con gli Stati Uniti che seminano solo terrore, anche la Russia alza il muro e l'Italia è fuori dalla lista dei paesi generosi, intanto nel silenzio mediatico, ebola e poliomelite fanno stragi. Parliamo anche della morte dello studente italiano Reggeni. L'ambasciatore non collabora la denuncia dei genitori ascoltati in commissione parlamentare di inchiesta. Vediamo anche la prima pagina del giornale, il piano dei giudici, ecco tutte le carte per arrestare Salvini, sequestro i migranti e il Tribunale protegge Conte, scrive il giornale. e poi il mondo lasciate la Cina, l'Italia perde 4 miliardi e mezzo, si aggravano intanto, come abbiamo visto anche precedentemente, le condizioni dei due pazienti, dei due turisti ricoverati a Roma. Vedete in basso poi l'altra notizia che abbiamo visto anche dalle pagine del Corriere della Sera, suicida per un parcheggio dopo l'agonia social. Vediamo il mattino di Napoli, noi italiani bloccati in Cina, chi non ha soldi per partire, chi non trova l'aereo in 600 non riescono a rimpatriare. E poi Sanremo, Rula, Pungia, Madeus, niente gaff, e poi narco, struffatori e camorristi con il reddito di cittadinanza. Vediamo la verità, cade il blef, aumentano l'IVA, il governo nato per non far crescere la tassa, sui consumi. E poi sulla Gregoretti, gente pericolosa, parola dei servizi segreti tedeschi, la prova che il contrasto alle ONG era sacrosanto, eppure si vuole processare. Vediamo il messaggero nazionale, fuga dalla Cina, italiani bloccati in 600, non riescono a partire per lo stop ai voli. Andiamo a centro pagina, Fiorello Don Matteo, qui si entra Papa e si esce Paete, dice, ha detto il comico, e poi Roma lo scandalo degli autisti malati, blocca la ferrovia. Vediamo anche il sole 24 ore, effetto virus sull'auto, soffre anche la moda, sfilate senza i cinesi, i riflessi economici del coronavirus, automotive in affanno, interruzioni nella catena globale, delle forniture. Vediamo anche la stampa, la prima pagina del quotidiano torinese, virus il mea culpa di Xi, il primo ministro cinese, commessi gravi errori, Pechino, Roma esagera. E poi Fiorello riporta la politica a Sanremo, vestito da sacerdote. Il tempo di Roma, il virus manda Conte nel pallone, scrive il tempo, che parla di confusione totale. Poi che scoperta la Gebrale, è più brava come Valletta, parte Sanremo dopo tutte le polemiche della vigilia, di appungere Fiorello sui due Mattei. Vediamo il secolo punto it, Foibe parli la segre, basta con il negazionismo modello ampi, ci vuole rispetto per il sangue dei morti e il dolore dei vivi. Titolo di apertura del secolo punto it, il secolo decimo nono, invece siamo stati deboli, la Cina fa autocritica per i ritardi sul virus. E poi parliamo anche dell'ILVA, confronto Conte-Mittal, ma cresce l'ipotesi divorzio, parte ancora a distanti e incombe l'udienza in tribunale. Vediamo avvenire, virus più controlli e meno emotività, stretta negli scali, Conte rassicura sulle scuole, peggiorano i due malati ricoverati a Roma. E intanto negli Stati Uniti sono partite le presidenziali che cominciano nel caos. E poi parliamo anche di migranti, l'Unione Europea sanziona i libici, che l'Italia sostiene. Vediamo anche l'ultimo titolo che riguarda sempre avvenire, l'intervista al presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che dice il centrodestra all'estero non fa più paura. Lasciamo dunque i quotidiani nazionali, le dicono a nazionale, possiamo tornare al centro, partire dalla pagina che riguarda la cronaca regionale coronavirus e gli sviluppi in Abruzzo, dimesso il bimbo ricoverato all'Aquila, negativo il test eseguito allo Spallanzani di Roma, restano in osservazione sanitaria otto persone, sei usciranno domani dal protocollo. E poi vedete, nuove linee guida del Ministero a contatto con il pubblico, cosa fare, le raccomandazioni per operatori di servizi ed esercizi pubblici. Vediamo la pagina che riguarda invece la politica regionale, i comuni verso il voto, parla il coordinatore regionale di Forza Italia, Pagano, i candidati dice si decidono a Roma e nasce anche il parlamentino dei sindaci, una nuova struttura della Lega, il commissario regionale D'Eramo, sempre più vicini, dice D'Eramo, ai cittadini. Vediamo ancora in basso, Bussi, Gerardis in commissione di inchiesta, ieri l'audizione dell'Avvocato dello Stato, il Presidente Legnini, emersi nuovi elementi. E poi Corte dei Conti, Sospiri revoca la nomina di Gatti. Vediamo poi in basso, dopo le minacce, Pettinari scrive a Sospiri, in una lettera il consigliere del Movimento 5 Stelle chiede al Presidente del Consiglio di punire gli autori del fuorionda. Vediamo la pagina che riguarda la tecnologia, l'Avezzano, l'E-Foundry, torna alle 8 ore per tagliare costi e assenze. Il cambio dei turni dopo 20 anni a 12 ore, domani le assemblee di fabbrica. Il sito di Avezzano oggi è l'unico in Italia ad osservare questo orario. E parlando di lavoro, di occupazione, ma anche di energia pulita, così vedete il titolo in basso, così l'Abruzzo ha perso, 1.500 assunzioni, addio al sito di Manopelo, il superesperimento sulla fusione nucleare porterà a frascati 500 milioni di euro. Siamo alle cronache dalle province, partiamo da Pescara, parliamo di tributi, in particolare della Tari, scusate, la tassa, sui rifiuti, importi congelati, ma rischio aumenti a fine anno. L'assessore Seccia annuncia un piano per far fronte al caos creato dal nuovo sistema di calcolo. E poi passi carrabili in città contestati rincari, le associazioni pronte alla protesta. Andiamo a vedere l'altra pagina con il colpo notturno al mercato di Via dei Bastioni con il furto dei soldi della beneficenza, i lati l'hanno danneggiato le case, portato via salumi, formaggi e 300 euro destinati ad una Ollus. Vediamo ancora la cronaca con l'indagine della Guardia di Finanza, arrestato il funzionario infedele dell'Agenzia delle Entrate, originario di Montesilvano, e ai domiciliari per corruzione e accesso abusivo ai sistemi informatici. E poi la sentenza, investì e uccise ciclista di 47 anni, il giudice lo assolve dall'omicidio. E poi, giovane aggredito, Padovano, Pescara, non è una città a rischio. Andiamo avanti, parliamo di scuola, Ravasco, 100 studenti ieri in piazza, dove faremo gli esami di Stato, la protesta di ragazzi e genitori davanti allo storico istituto Eugenia Ravasco di Viale Bovio dopo la decisione di ridurre l'attività dal prossimo anno scolastico. Oggi incontro con il presidente del Consiglio regionale Sospiri. Ieri con le nostre telecamere abbiamo seguito questa protesta che c'è stata proprio in Viale Bovio. Possiamo andare a vedere dunque il primo servizio. Questa mattina c'è questo sit-in nei pressi dell'istituto Eugenia Ravasco di Viale Bovio a Pescara. Quali sono i motivi di questa protesta, di questa manifestazione? C'è stata una notizia allarmante che non sappiamo bene da chi è arrivata che dichiarava che la scuola sarebbe stata chiusa. Ovviamente io sono preoccupata da genitore perché questa è per noi è una scuola unica, mio figlio frequenta un liceo sportivo di indirizzo pedagogico e non ce ne sono altre all'interno della nostra città di Pescara. Ho avuto in precedenza una figlia che si è diplomata qui che ha avuto ottimi risultati quindi credo fortemente nella competenza e nelle capacità di questo istituto. Avete parlato con i vertici della scuola? che ci hanno garantito la continuità didattica quindi da domani i nostri studenti i nostri figli entreranno a scuola i professori sono prontissimi a riceverli e ovviamente a continuare con garanzia a dare garanzia al piano didattico. Come mai questa mattina qui questa protesta davanti ai pressi della scuola? Per evitare che comunque non la chiusura ma per evitare che i cicli già iniziati abbiano l'obbligo di terminare i loro studi altrove. E' stato lanciato questa allarme da chi? Perché? La preside ha avvisato i professori sabato mattina e i genitori delle famiglie che non fossero comunque degli ultimi anni sabato pomeriggio e noi infatti oggi stiamo mobilitando per il semplice motivo che ci è stata negata l'assemblea dell'istituto per parlarne e allora stiamo facendo una manifestazione appunto per questo perché comunque dobbiamo far conoscere il nostro dissenso e il fatto che noi seppur essendo rappresentanti dell'istituto stiamo rappresentando tutti quanti gli studenti ma tutti quanti anche gli ex alunni che comunque non vogliono che questa scuola finisca così. Abbiamo paura per avere il futuro perché questa scuola va avanti da 90 anni e c'è stato privato il nostro futuro anche a noi del quinto anno di comunque tornare nella nostra casa perché questa non è solo una scuola non sono solo un mura ma una famiglia siamo pochi e siamo tutti uniti e lo stiamo dimostrando qui davanti. Avete parlato con la madre superiore? Con la madre superiore no perché è a Roma ma oggi abbiamo parlato con la preside e niente noi siamo qui tutti uniti perché come è giusto che noi concludiamo quest'anno con il nostro esame di Stato anche gli altri anni lo devono fare. Andiamo avanti sempre dalle pagine del centro restiamo a Pescara il campo rampigna verso la rinascita lavori a primavera all'annuncio dei tecnici comunali in commissione sport e poi vedete Pescara energia ripristina 84 punti luce in città e poi il centro sinistra critica l'assessore Mascia i lavori per la città Mascia dicono sconfessato dal suo partito vedete poi in basso i 70 anni di Franco cuoco di Andreotti e Zemana lo storico ristoratore Vascellini ero ragazzino quando cominciai a lavorare nella trattoria di mio zio siamo alla pagina di Montesilvano si guarda alla prossima stagione turistica tassa di soggiorno gli albergatori vogliono chiarezza sull'importo vediamo anche l'altra pagina siamo sempre la pagina dell'area metropolitana di Pescara partiamo dalla parte alta città Sant'Angelo nuovi orari all'ufficio anagrafe e poi Montesilvano massaggio a luci rosse condanna per due cinesi spoltore sicurezza sul lavoro le regole del comune e poi in basso città Sant'Angelo carnevale d'Indirucce in gara sette contrade per questa tradizionale manifestazione Francavilla tragedia evitata salvato dal defibrillatore ringrazia i suoi soccorritori dall'ospedale andiamo a vedere anche la pagina che riguarda la Val Pescara soprattutto la Val Pescara è stata colpita dal maltempo dal vento delle ultime ore albero sull'auto in transito tragedia sfiorata a Scafa e poi a Cugnoli rogo vicino alle case il sindaco chiude l'ingresso del paese e poi ci spostiamo nell'area vestina a Penne ricoveri troppo lunghi al San Massimo ieri c'è stata la visita del consigliere comunale capogruppo dell'Udc al comune di Pescara Massimiliano Pignoli e dell'assessore comunale al disagio sociale Nicla Dinizio per parlare proprio con i medici del San Massimo eravamo presenti con le nostre telecamere allora andiamo a vedere anche in questo caso il servizio curato per noi da Stefano Recanati Massimiliano Pignoli oggi in visita presso il presidio ospedaliero di Penne vi siete voluti accertare dei ricoveri che in alcune occasioni secondo voi durano più del previsto secondo noi secondo i numeri siamo venuti in missione dalle direzioni sanitarie praticamente l'ospedale civile dipende diventato medicina geriatria un reparto a lungo degenza questo non può essere per cui interpreteremo l'assessore e il direttore e il generale facendo funzione il dottor Caponetti di questa situazione perché mentre a Pescara ci sono persone in generale medicina che stanno praticamente lungo i corridoi a Penne si permettono tra virgolette il lusso di tenere pazienti ricoverati mesi e mesi questo non può essere giusto perché sia esseri umani sia a Pescara che a Penne ma la stessa cosa al prossimo viaggio sarà fatta a popoli per cui sarà una battaglia lunga politica che ho già iniziato a fare da alcuni anni in consiglio comunale a Pescara già con un consiglio comunale straordinario per il sovraffollamento di generale medicina fino a quando non verranno sistemati quei reparti io non mollerò la soluzione la lasciamo a chi lavora ai vertici della direzione generale noi oggi siamo venuti qui per questo grave problema che ci hanno rappresentato e ringraziamo il primario che ci ha ricevuto ma ci aspettavamo risposte molto più concrete aspettavamo una risposta molto più concreta noi non non molliamo anche per il rispetto di tutte quelle persone che oggi non hanno un posto letto sia in geriatria che in medicina e quindi sicuramente chiameremo a rispondere anche l'assessore alla sanità Nicoletta Veri ma questo voglia essere un una collaborazione anche per i cittadini di Penne di Pescara e di tutto il territorio ci spostiamo a Chieti sempre dal centro la max inchiesta gli imputati dal giudice fiumi di cocaina per la movida il PM chiede il processo per 23 persone e poi spariti 76 mila euro svuote il libretto postale di un cliente condannato a due anni e dieci mesi schianto sulla statale 81 mamma morta il giorno del dolore oggi alle 15 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Ortona ci sarà l'ultimo saluto ad Alessia Di Febo lascia due figli piccoli rubò la legna del vicino finisce in carcere casale incontrata arrestato un cinquantenne incastrato dalle telecamere e poi Palombaro rogo minaccia casa di riposo anziani salvati paura per un incendio in montagna gli ospiti sgomberati e assistiti dal comune siamo alla pagina di Teramo la nuova giunta la missione di Verna fare subito il piano della mobilità sostenibile il dissidente del PD torna assessore dopo 16 anni ed è già a lavoro sul tema caldo del traffico la polemica di Timotio via dalla maggioranza la consigliera scrive al sindaco sei una grande delusione vediamo poi in basso Italia Viva appoggio flessibile Ginobili avverte d'Alberto e d'Alessandro si chiede si ricandiderà a sindaco e dunque c'è un po' di fibrillazione politica nel capoluogo a Prutino noi ci spostiamo sulla costa Silvi bando da un milione e mezzo di euro per la pista ciclabile le imprese edili possono presentare le offerte entro il 4 marzo Atri teatro bar gestito dagli studenti parla Basilico di Abruzzo Civico che propone al comune di coinvolgere l'alberghiero e poi in basso ancora Atri non abbattete l'hotel garden l'appello dello scrittore Serpentini per lo storico edificio di Pineto e a Pineto Teleton in campo con i volontari per raccogliere fondi destinati alla ricerca pagina dell'Aquila del quotidiano il centro incidente ferroviario tra Bazzano e Sant'Elia urtato dal treno in corsa giovane resta ferito ragazzo stava camminando vicino ai binari macchinista frenato e lanciato l'allarme sonoro soccorsi immediati e siamo ad Avezzano nella Marsica pensionato vince una casa a 200 mila euro il 5 al concorso Sisal nella tabaccheria azzurra e un cliente abituale stava per svenire ha raccontato la titolare mazzetta e ricostruzione processo d'outdes confessa la tangente da teste accusato e poi autovelox di bussi oggi il vertice a Pescara incontro tra i prefetti ieri vi avevamo proposto anche un servizio nel corso del nostro Tg siamo arrivati alle pagine dello sport allora possiamo andare a vedere insieme le prime pagine dell'inserto Abruzzo del messaggero prima di andare a vedere le previsioni del tempo partiamo dalla pagina che riguarda la cronaca regionale partiamo con i trasporti l'Aquila Roma rivolta per le corse sorpresse il caso diventa politico la tua taglia interventi marginali la linea ormai commerciale si apre il fronte fratelli d'Italia durissimo attacco della Mannetti intanto la regione si impegna per portare i treni dell'alta velocità anche al sud questo è l'impegno in particolare del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D'Annuntis andiamo poi a centro pagina coronavirus dimesso il bimbo cinese che era ricoverato in isolamento all'ospedale San Salvatore dell'Aquila e poi vedete in basso Corte dei Conti la regione ritira la nomina di Paolo Gatti il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri emerso dopo la designazione ha detto Sospiri un nuovo scenario lasciamo la pagina della cronaca regionale andiamo a vedere la pagina di Pescara la prima pagina di Pescara vendeva dati riservati arrestato e è accaduto proprio nel capologo Adriatico e poi Donne nel Mirino per violenze contro moglie e figli sconterà otto anni vediamo poi in basso l'articolo dedicato al maltempo che soprattutto nell'Interland pescarese in Val Pescara ha creato grossi problemi con il vento soprattutto nella giornata di ieri vedete il Garbino abbatte alberi e alimenta incendi tragedia sfiorata a Scafa dove un albero è finito su un'auto Maxirogo a Cugnoli andiamo a vedere l'altra pagina parliamo sempre di Pescara e di tasse in questo caso Tari tra i rate uguali all'anno scorso o in soluzione unica l'assessore Seccia fisse i criteri per la tassa con ambiente e adriatica risorse poi ladri al mercato di via dei bastioni presi anche i soldi della beneficenza e poi scossa di terremoto di magnitudo 3 nel mare antistante Pescara Comune Sicuro parla il consigliere comunale di centro-sinistra Mirco Frattarelli sì alla vigilanza no agli inutili Tornelli a Palazzo di Città vediamo poi in basso pochi soldi e progetti culturali scontro sul bando del comune sempre a Pescara e poi le spine della sanità abbiamo visto appena il servizio Pignoli e Dinizio ieri in visita all'ospedale di Penne Degense troppo lunghe allora possiamo fermarci per qualche istante andare in pubblicità vedere anche le previsioni del tempo per le prossime ore poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6 siamo di nuovo in studio per la seconda parte di Mattino 6 avevamo iniziato a leggere insieme le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero proseguiamo siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara parliamo di scuole studenti in piazza contro i posti al veleno il classico d'annunzio protesta dopo il caso delle offese a due docenti sulla pagina social della scuola e poi rischio chiusura Ravasco si tiene contro la fine dell'istituto abbiamo visto prima il servizio e poi chiude il bar sulla piazza del comune siamo a Montesilvano mentre si litiga sulla tassa di soggiorno luce di cinesi due condanne a Pescara e poi bussi Edison Valtar per le discariche 2A e 2B e poi l'avvocato Gerardis fa il punto sui processi siamo alla pagina dell'Aquila da Portabranconi a San Lorenzo via alla pulizia del tratto di mura l'intervento del comune annunciato alle associazioni andiamo poi in basso costruito con le donazioni cade a pezzi il campus di Pile poi puntellamenti morsetti e tubi innocenti in abbandono sempre all'Aquila Bazzano ragazzo urtato dal treno tragedia sfiorata e poi blitz dell'inverno veloce andata di maltempo in regione sul Gran Sasso 20 a 175 chilometri orari andiamo a vedere l'altra pagina dell'Aquila Rams sempre più struttura detentiva l'osservatorio superamento ospedali psichiatrici giudiziari ha rimesso una relazione dopo il sopralluogo degrado all'interno del centro e tendenza alla repressione urgono formazione del personale e progetti di riabilitazione da come leggiamo in questo titolo di pagina 39 coltellate fuori dal locale risarciti i due feriti e poi negozio non trova lavoratori Katia Chiapparelli deve ridurre l'orario di apertura pago bene regolarmente ma i nuovi assunti se ne vanno di solito dopo poco tempo neurochirurgia arriva il supernavigatore per interventi di precisione e poi workshop le residenze artistiche griffate Barattelli e Isa andiamo avanti con la pagina di Avezzano e della Valle Peligna partiamo dalla Marsica Sisal gioca a due euro e vince una casa in città e caccia al fortunato vincitore del concorso omonimo vinci casa e intanto è festa nella tabaccheria azzurra di via 20 settembre Pesca Serri l'operaio preso a pugni indagano i carabinieri e poi Avezzano Gattino strangolato è lasciato per strada ci spostiamo più in basso ancora Avezzano sostanze stupefacenti condannati due stranieri andiamo poi a Sulmona area dei musp esposto per caos viabilità e poi sempre nella città Peligna altra ondata di furti svaliggiate quattro abitazioni proseguiamo con la pagina di Chieti del quotidiano il messaggero svuota il libretto dell'amico per 76 mila euro condannato e poi i fiumi di cocaina allo scalo in 23 rischiano il processo incarichi Asle il nuovo direttore sanitario i candidati per l'Asle di Chieti sono 21 e poi l'inverno anomalo oggi più freddo ieri temperature da montagne russe e poi ancora parliamo di musei perché la direzione regionale dei musei sarà a Chieti lo ha deciso il ministero dei beni culturali andiamo a vedere l'altra pagina della provincia di Chieti in questo caso partiamo dall'area frentana lasciano il campo esplode la caldaglia grande paura l'altra sera l'impianto sportivo di Meco l'incidente avvenuto appena dopo l'ultimo allenamento e poi vasto aggressione fuori da un ristorante al centro storico ferito un 25enne sempre a vasto colpo al supermarket condannati due romani Monteodorisio centro raccolta rifiuti chiuso dal sindaco e poi vediamo in basso rogo a palombaro anziani evacuati alberi e cartelli sulle auto per il vento e poi ortone in autunno la riapertura dell'auditorium Zambra andiamo a vedere la pagina di Teramo del quotidiano in messaggero la politica da Alberto Bis parte con lo strappo di Timoteo passa al gruppo misto e poi il caso di Giulia di Sabatino la cugina celeste si difende in aula dopo le accuse della zia e poi la dimora pronta dal 2011 ma mai funzionante il caso con la struttura destinata ad ospitare disabili con 22 posti letto in comunità alloggio finora non aperto e poi vento forte transennata la prefettura di Teramo dai vigili del fuoco e poi valvibrata ricettazione e droga due persone in manette vediamo l'altra pagina della provincia di Teramo partiamo dalla parte alta della pagina latitante accusato di tentato omicidio è finita a brindisi la fuga dell'albanese che l'altra mattina aveva sparato ai carabinieri albadriatica le opere di Buccia il museo archeologico di Ascoli e poi Giulianova nuovi reparti sabato all'ospedale dell'annunziata vediamo poi nella parte centrale della pagina ancora Giulianova riecco il nautico giardino sul lungomare Santomero casa di riposo Campanini finisce in Parlamento Sant'Egidio alla vibrata Romandini vuole scacciare gli assessori di Fratelli d'Italia infine l'ultimo titolo che riguarda ancora Giulianova ragazza aggredita nel sottopasso ferroviario siamo arrivati alle pagine dello sport allora possiamo passare a vedere le pagine interne del quotidiano La Città partiamo da pagina 3 la tua ancora nell'occhio del ciclone l'assessore Aquilano Mannetti e i sindacati criticano la cancellazione delle corse verso la capitale e poi l'iniziativa che tocca anche Pescara con Too Good To Go è possibile acquistare dei cibi ad un terzo del prezzo reale cibi invenduti da alcuni esercizi ricordiamo tra l'altro che quella di oggi è anche la giornata nazionale contro gli sprechi alimentari vediamo in basso parliamo di trasporti parla il sottosegretario della giunta regionale D'Annuntis che chiede treni più veloci anche al sud dunque anche in Abruzzo maltempo vento e fuoco giornata calda in tutta la provincia di Teramo gran lavoro per i vigili del fuoco in diverse zone del Teramano vedete le immagini vediamo poi la cronaca sparatoria con i carabinieri arrestato a Brindisi finita la latitanza del giovane che aveva seminato il panico a Colonnella e poi la denuncia parla il parlamentare del Movimento 5 Stelle Berardini su un nuovo ospedale la regione dia risposte chiare nuovo ospedale di Teramo in questo caso parliamo della politica teramana con il rimpasto d'Alberto perde i primi pezzi Francesca Di Timoteo lascia insieme possiamo in forte polemica con il sindaco e poi in basso vedete Italia Viva Camillo D'Alessandro Teramo utilizzata per le spartizioni politiche il deputato prova a stanare il sindaco d'Alberto vediamo anche la prossima pagina la Lega si riorganizza anche nel Teramano il coordinatore regionale D'Eramo nomina Gianfranco Giuliante commissario provinciale Andrea Scordella commissario cittadino vediamo e poi in basso prorogati termini per le proposte sul regolamento la scadenza fissata lunedì scorso è stata spostata al 14 febbraio ritirato il decreto sulla nomina di Gatti Corte dei Conti è arrivata ieri sera la decisione ufficiale del presidente Sospiri Braga avviato il progetto orchestra giovanile a Teramo e poi economia segnali discreti dall'economia abruzzese istituzioni e portatori di interesse si incontrano oggi a Teramo per parlare del mondo dell'impresa e del lavoro andiamo avanti parliamo ci spostiamo in Val Vibrata parliamo della strada che sta franando a rischio chiusura a causa del distesto idrogeologico potrebbe essere interrotto il collegamento tra Ancarano e Sant'Egidio siamo in Val Vibrata al confine con le Marche e poi i carabinieri di Intraccio ne arrestano due stranieri a Martinsicuro e poi il 7-8 febbraio a Tortoreto si parlerà di cyberbullismo andiamo avanti Giulianova le discussioni fanno ritardare i lavori il cantiere per il restyling di Piazza Dalmazia dovrebbe partire solamente dopo l'estate ancora Giulianova era meglio la carta se ne discute in Sala Buozzi e poi ancora Giulianova via Libera al senso unico voluto dei residenti in versione di marcia attiva da ieri lungo via Ruetta Scarafoni proseguiamo pagina 16 del quotidiano La Città siamo nell'area costiera di Teramo ancora Silvi pubblicato il bando per la pista ciclabile l'amministrazione di Silvi va avanti con l'opera apertura delle buste fissata al prossimo 5 marzo Roseto degli Abruzzi aumentano le segnalazioni di degrado nel territorio di Roseto Marcone Simone De Vincenti si attaccano l'amministrazione sulle manutenzioni e sullo stato di via Boccaccio Pineto incontro sul percorso ciclistico che unisce il mare con il Gran Sasso in programma Villa Figliani venerdì sera alle 21 questo appuntamento un'occasione per conoscere il primo e unico trail d'Abruzzo andiamo avanti Roseto al palazzetto dello sport vince la vita in 3.500 hanno partecipato al galà di pattinaggio raccolti 30.000 euro per combattere la fibrosi cistica vedete le immagini nella foto della grande partecipazione a questo evento che si è tenuto a Roseto degli Abruzzi vediamo anche la pagina della cultura da Ciamaraini nella valle che legge la scrittrice chiude venerdì ad Arsita in provincia di Teramo alla rassegna letteraria con il libro Corpo Felice e poi a Sanremo e a Triano il coautore della canzone il gigante d'acciaio lasciamo dunque la pagina della cultura del quotidiano la città possiamo aprire ufficialmente invece la pagina dello sport in questa ultima parte di mattino 6 di mercoledì 5 febbraio iniziamo con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali partiamo dalla gazzetta dello sport Ericsson Inter fidati di me il fuoriclasse nerazzurro qui per fare la differenza creando gioco e segnando che duri gli allenamenti si guarda al derby con il Milan dice il neo nerazzurro del Milan non temo nessuno a San Siro ci sarà un'atmosfera fantastica in alto parliamo del Torino Torino che ha salutato Mazzarri dopo le ultime sconfitte Longo è il nuovo allenatore della formazione Granata il neotecnico dice voglio la garra il nostro DNA è saltato un'altra panchina oltre a quella del Torino in Serie A via vai a Brescia salta nuovamente Corini Cellino punta sul duro Lopez Alex del Cagliari contratto fino al 2022 siamo al Corriere dello Sport attacco all'Inter Lazio pronta per il sorpasso Inzaghi recupera la sfida contro il Verona se vince Scavalca Conte sale al secondo posto e va a meno due dal Juventus e poi c'è l'esclusivo l'intervista con il patron della Fiorentina commisso voglio un altro calcio il patron della Fiorentina che nei giorni scorsi era stato al centro delle polemiche riguardanti alcuni arbitraggi vedete poi in basso salta Corini siamo a Brescia arriva Lopez quarto cambio stagionale di panchina per le rondinelle vediamo anche tutto sport quotidiano sportivo torinese Conte devi vincere Zaccheroni gioca il derby l'Inter dice non può sbagliare e intanto giocherò fino a 40 anni vedete Ronaldo che oggi compie 35 anni ma i parametri fisici sono quelli di un 28enne e poi lungo uomo da toro uno da toro in questo caso il neotecnico 43enne del Torino presentato dalla società lasciamo dunque le pagine le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali ripartiamo dal centro la pagina che riguarda anche in questo caso lo sport nazionale il calcio con le tre generazioni nel Milan perché nell'ultimo turno di campionato esordito con i rossoneri Daniel Maldini sulle orme delle leggende di famiglie di famiglia perché l'esordio del trequartista è avvenuto sotto gli occhi del genitore ovvero di Paolo Maldini che è direttore tecnico del Milan e nel ricordo del nonno Cesare Maldini unico precedente quello dei Cudicini e intanto questa sera c'è il recupero di campionato tra Lazio e Verona vedete la classifica con la Lazio che ha 49 punti l'Inter 51 la Juve 54 se la formazione di Inzaghi dovesse vincere scavalcherebbe al secondo posto i Nerazzurri intanto a Parma Gervigno finisce fuori rosa vedete poi in basso il Torino Longo rivolgo lo spirito del Toro Cairo presenta il nuovo allenatore parliamo anche di MotoGP Iannone tra dieci giorni la sentenza per quanto riguarda il pilota vastese resta intanto la sospensione provvisoria siamo alla pagina che riguarda il Pescara Serie B operazione rilancio entusiasmo le grottaglie il Pescara è ai piedi del suo allenatore allenamenti diversi ritiri annullati e grande empatia con il gruppo ecco i segreti del tecnico che ha cambiato i biancazzurri a testa alta nelle difficoltà detto anche al numantunesimo ai nostri microfoni il trainer abruzzese vedete nella foto Nemuschai 33 anni centrocampista e vice capitano del Pescara tanti cambiamenti con il nuovo tecnico il lavoro settimanale cambia rispetto al passato con sedute di 75 minuti ad altissima intensità aboliti i raduni obbligatori prima delle partite il tecnico pugliese è entrato nel cuore dei giocatori ma il Pescara dopo la chiusura ufficiale del mercato guarda la lista degli svincolati per rinforzare soprattutto l'attacco nel mirino dei dirigenti abruzzesi c'è Alessandro Matri ma si guarda anche a Bogino e a Martins giocatori da un passato illustre in cerca di squadra vediamo vediamo anche il Teramo la serie C bombaggi sostituito Teramo nessun caso il fantasista non ha gradito il cambio con il rende volevo segnare ecco perché ero arrabbiato ma con Tedino non ci sono problemi vedete poi questo specchietto con le formazioni del girone C con i punti raccolti in trasferta per il Teramo punti raccolti in trasferta sono pochi il Teramo nella parte destra della classifica andiamo avanti riparte il concorso con vota il miglior giocatore dilettante tanti gli atleti in gara vediamo poi il basket testa coda Roseto al Palamagetti arriva la capolista Sharks stasera in campo contro la corazzata Ravenna Biancazzurri ultimi e senza vittoria dal 29 dicembre sulla carta un match proibitivo per gli Sharks parliamo di serie B di basket Sorgentone Lesa Teate mi dà fiducia il coach dei Biancorossi la squadra migliora la vedo più convinta torniamo alla serie A2 per vedere il quadro delle gare in programma per quanto riguarda la ventiduesima giornata del campionato di serie A2 maschile Girone Est con Sansevero Caserta che si giocherà domani alle 21 e poi Forlì Montegranaro Roseto Ravenna questa sera come dicevamo alle 21 Orzi Nuovi Manto Ferrara-Verona Imola-Udine e Piacenza-Milano vedete la classifica Ravenna 34 Forlì 30 Ferrara-Manto Verona e Udine 24 Piacenza-Imola e Milano 20 Montegranaro 18 Caserta e Sansevero 16 Orzi Nuovi e Roseto chiudono la classifica con 12 punti quella di questa sera è la prima di due gare casalinghe consecutive per la formazione rosetana che il 9 febbraio affronterà sempre in casa al Palamaggetti il Piacenza vediamo anche il turno infrasettimanale che si giocherà in serie C-Silver tra questa sera e domani con Terremo a spicchi Farnese Antoniana Pescara Basket Pescara Silvi Mosciano Erino Termoli Air Termoli Amatori Pescara Torre Spess riposa il nuovo basket Aquilano vediamo anche in questo caso la classifica con Pescara che comanda 26 punti Terremo a spicchi 24 Amatori Pescara 22 Mosciano 20 Air Termoli 16 Torre Spess il nuovo basket Aquilano 14 Silvi 12 Farnese Pallacanestro 10 Antoniana Pescara 6 Airino Termoli 0 punti Parliamo anche di atletica leggera Montanaro e Sabatini tra le stelle degli assoluti di atletica ci saranno dunque queste due atlete abruzzesi la Teatina Ludovica Montanaro e la Teramana Gaia Sabatini che si faranno cercheranno di farsi onore in questo importante appuntamento andiamo a vedere l'ultima pagina di sport del centro Team Colpac Ballan una fucina di talenti parliamo di ciclismo perché la squadra Continental diretta dei fratelli Bevilacqua inizierà la nuova stagione il 16 febbraio con il trofeo La Igueglia vediamo poi ancora a centro pagina il Forisella Bike si prepara alle gare del calendario Axi e poi l'Ak Cycling Cycling punta a ben figurare nell'Abruzzo della Mountain Bike Cup e poi il Team Battistini di Teramo al via all'insegna del rinnovamento in questo caso parliamo degli amatori su strada chiudiamo per quanto riguarda le pagine dello sport del centro con la Stella Falcone che brilla nel Gran Premio giovanissimi parliamo di scherma perché la Porta Colori della Teate Chieti si impone e ottiene un grande risultato nella manifestazione che si è svolta a Roma andiamo a vedere le pagine dello sport del quotidiano il messaggero ripartiamo dal Pescara ora le grottaglie conquista tutti il calcio offensivo e coraggioso del nuovo tecnico sta piacendo ai tifosi intanto l'esterno Zappa diventa goleador dice ci ho preso gusto due reti per Zappa nelle ultime due partite e intanto l'abbiamo visto prima anche dalle pagine del centro è partita la caccia lo svincolato Martins Bogino Vevoeis sono i nomi alcuni dei nomi sul taccuino dei dirigenti abruzzesi e poi a sardo e condizione fisica le corde giuste l'allenatore abruzzese ha sfruttato le accelerazioni sulla sinistra potendo contare sul lavoro di Zauri perché effettivamente l'ottima condizione fisica del Pescara si deve sicuramente alla preparazione effettuata dallo staff tecnico dell'ex allenatore della formazione adriatica siamo alla seconda pagina dello sport del quotidiano il messaggero Bombaggi non volevo offendere il mister parla l'attaccante del Teramo che chiarisce sui social la mancata stretta di mano con il tecnico Tedino dopo la sostituzione ero nervoso dice però ai compagni di squadra ho dato il 5 parliamo anche di calcio a 5 perché Gianluca Marzuoli è stato eletto miglior allenatore italiano e ha portato a casa il prestigioso riconoscimento della panchina d'argento per la stagione scorsa 2018-2019 Gianluca Marzuoli lo scorso anno aveva guidato il Montesilvano calcio a 5 portandolo alla conquista della Supercoppa e alla finale Scudetto quest'anno Marzuoli è tornato ad allenare gli uomini con la panchina della Tombesi Ortona però per lui un grande riconoscimento per il calcio a 5 femminile con la manifestazione che si è tenuta a Coverciano dove sono stati premiati tutti i migliori allenatori del calcio e del calcio a 5 c'erano tanto per fare qualche nome Giampiero Gasperini miglior allenatore di Serie A e tanti altri tecnici che si sono imposti nell'ultima stagione vediamo il calcio regionale di eccellenza parliamo del lanciano parla in questo caso il patron De Vincentis credevo in un lanciano migliore il presidente analizza il secondo posto e le tante difficoltà della formazione frentana molto distante in classifica dalla capolista Castelnuovo parliamo anche di calcio regionale di promozione d'amico ora l'Aquila può vincere il triplete perché la formazione aquilana è ad un passo dalla promozione in eccellenza ma è anche impegnata in Coppa Italia l'Aquila che dunque vuole portare a casa tutti i trofei vedete nella foto il tecnico della formazione rosso-blu Cappellacci parliamo anche di basket torniamo a parlare di basket con Roseto che questa sera giocherà il testa-coda contro Ravenna per la formazione di coach d'Arcangeli una gara durissima ma Roseto che non vince da dicembre ultima in classifica la squadra rosetana dovrà cercare il miracolo contro il quintetto Romagnolo la gara che si giocherà lo ricordiamo questa sera al Pala Maggetti Pala 2 alle 21 agli ordini degli arbitri Maschio Costa e Doronin lasciamo le pagine dello sport del messaggero per chiudere con lo sport del quotidiano la città partiamo con il calcio e con il Teramo in questo caso vedete una notizia che non abbiamo trovato sugli altri quotidiani Teramo si rinnova l'asse col Pescara punto di domanda perché lunedì sera la dirigenza bianco-rossa era allo stadio Adriatico ad assistere al match tra il Pescara ed il Cosenza e Sebastiani era invece al Bonolis qualche giorno prima per seguire la sfida tra il Teramo ed il Catanzaro e dunque potrebbero aprirsi contatti tra le due società e dovrebbe tornare ad esserci una piena sinergia lo leggiamo anche da questo sommario probabilmente anche sotto il punto di vista del mercato discorsi che potrebbero essere approfonditi nelle prossime settimane parliamo di basket basket che riguarda il Teramo Teramo a spicchi blitz con la formazione del Pescara che va al tappeto bianco-rossi vittoriosi per 64 a 63 64 a 73 pardon la felicità del coach Teramo per prestazione super e ora testa a campi dunque una bella soddisfazione per Teramo aver battuto la corazzata pescarese vediamo anche l'atletica l'uomo nuovo dell'atletica il fine settimana dell'atletica abruzzese è stato infatti caratterizzato dalle tre ottime prestazioni dell'emergente atleta Giai Ghebli portacolori dell'atletica Vomano di Morrodoro chiudiamo con la seconda pagina dello sport del quotidiano la città con lo spazio del CSI calcio a 7 si segna a raffica nel gruppo C nell'ultimo turno di campionato nel raggruppamento vibratiano sono state realizzate ben 55 reti vediamo poi in basso calcio a 5 volano le prime tre della classe vincono Sportmania amici Poggio Morello e Teramo Luce Caprafico per quanto riguarda invece il campionato di sci c'è stato un rinvio il CSI Vara il piano B al castello Picconomini rinvio determinato dal forte vento che ha creato problemi agli organizzatori siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi di mercoledì 5 febbraio con Mattino 6 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito e vi rinnovo l'appuntamento per quanto riguarda la nostra rassegna stampa domani alle 8 il prossimo appuntamento informativo della nostra rete per quanto concerne la giornata di oggi come sempre alle 14 per la prima edizione del TG6 grazie e buona giornata grazie a tutti